Se lo scrive il sito di Gianluca Di Marzio ci possiamo credere. Il nome per l'attacco dell'Arezzo sarebbe quello di Marco Guidone. Attaccante esperto, classe 1986, la società Maranto avrebbe già l'accordo con lui mentre sta ultimando quello con il Padova. Da Padova a gennaio di quest'anno era andato a giocare al Vispesaro, 3 gol su 18 presenze, nelle due stagioni con la maglia Patavina, nella prima 9 reti su 32 presenze in Serie C, 5 presenze in Serie B senza nessun gol. Guidone vanta anche trascorsi nella Sansovino nel gennaio 2008, 10 presenze e nessuna rete, allora la formazione Arancioblu era in C2. Prima grande affermazione nella Serie C belga la stagione seguente con 17 reti con la maglia del Vervier. Nel 2009-2010 lo troviamo alla Carrarese, nell'allora C2, 12 reti su 27 presenze, quindi il grande salto in Serie B a Grosseto, 4 gol su 17 presenze, quindi 2 gol con il Pisa, 4 con il Foligno e poi in doppia cifra 4 stagioni consecutivamente, prima Alfondi C2, 11 reti, Chietici 2, 13 reti, poi 23 gol in due stagioni al Sant'Arcangelo dove ha giocato con una certa continuità. Poi l'arrivo alla Reggiana, 2016-2017, 8 gol su 34 presenze, quindi un anno e mezzo a Padova, Bispesaro e ora forse Arezzo. In carriera vanta anche una vittoria di campionato proprio con il Padova nella stagione 2017-2018, quando mise dentro, come detto, 9 reti.